Prima serata di questo vostro evento Siamo appunto alle 18.30 con un talk sulla serie Christian in collaborazione con Sky dove sarà presente l'attrice Silvia D'Amico poi ci sposteremo alla Villa Comunale dove avremo la proiezione dei cortometraggi in concorso e a tanti ospiti come l'attore appunto della serie Mare fuori Matteo Paolillo e poi ci sarà appunto di nuovo Silvia D'Amico il tutto presentato da Liliana Fiorelli un'attrice appunto riconosciuta nel panorama italiano Ci sarà una masterclass qui? Sì, qua fra poco inizierà un vero e proprio talk sulla serie Christian e questo rappresenta per il secondo anno consecutivo una partnership ormai consolidata tra noi e Sky e anche l'altra media partnership Taxi Driver perché la masterclass appunto sarà moderata da Davide Magnisi rappresentante di Taxi Driver, rivista di cinema abbastanza conosciuta nell'ambito cinematografico e ovviamente grazie a questa collaborazione abbiamo tirato su per il secondo anno di fila un evento che riguarda una serie tv Quindi anche questo riferimento che avete fatto per quanto riguarda la serie è importante perché comunque significa che non ci sono limiti per voi Noi ci definiamo un evento di cinema a 360 gradi noi appunto trattiamo la serie tv, noi facciamo proiezioni di film lungometraggi e soprattutto poi abbiamo il nostro concorso di cortometraggi internazionali quindi noi quello che cerchiamo di fare è creare a Crotone un punto culturale vivo e che esplori l'arte a 360 gradi come per esempio anche la mostra che abbiamo all'interno della torre aiutante del castello di Carlo V Kaiser Panorama in collaborazione con la Cinetica di Bologna e curata da Giadale Martino che esplora un po' l'eros cinematografico Siete soddisfatti di questo programma e soprattutto cosa vi aspettate dai cittadini? Ma dai cittadini sicuramente tanta partecipazione, è un programma ricco abbiamo più di 20 ospiti, 20 registi e autori invitati tra le 20 industrie e la selezione quindi ci sono davvero tanti eventi e non vedo perché la città non debba partecipare dato che appunto oltre alla proiezione di cortometraggi come diceva Matteo c'è una mostra interessantissima di fotografia, c'è di tutto, venite dai Sei venuta a Crotone per una masterclass e non solo? Sì, soprattutto per partecipare al Calabria Movie alla quinta edizione perché non c'ero mai stata e mi fa sempre molto piacere sostenere queste iniziative Infatti il cinema è importante? Sì, assolutamente, anche in estate, comunque è una fonte di intrattenimento anche per chi è in vacanza quindi sono contenta di essere arrivata fin qua Come attrice, cosa hai fatto tu? Allora ho cominciato con il cinema, poi negli ultimi anni dato anche lo sviluppo insomma delle piattaforme, delle diverse offerte ho cominciato a prendere parte a diverse serie tv ho fatto Christian, a casa tutti bene, sempre con Sky e quest'anno c'è una nuova uscita di Sky Quindi, ecco, è molto importante per te tutto questo lavoro e soprattutto essere qui a Crotone oggi Che cosa può rappresentare nella nostra città la tua presenza? Può rappresentare un modo diverso di trattenersi, è diverso guardare un attore al cinema, in televisione o scoprire il lavoro che fa attraverso dei dialoghi appunto come succederà oggi Grazie 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 Grazie